Voglio raccontarvi questa cosa a proposito di animali. Mio padre, quando è arrivato in Italia a Brescia, negli anni 70, faceva un lavoro molto particolare, faceva il sessatore. Immagino che ci sia qualcuno di voi che forse lo sa. Sapete cosa fa il sessatore? Sì? Come mai? Perché? Ma tu sei Matteo di Radiobase Venezia? Vabbè, allora non conta. Allora, va bene, ve lo spiego, ve lo spiego. A chi non lo sa, allora, il sessatore è colui che capisce il sesso di un animale, il sesso del pulcino, in particolar modo. So a cosa state pensando, che lavoro del cazzo? Allora, lasciate che vi spieghi. Allora, mettetevi nei panni di un allevatore. L'allevatore vuole soltanto, cioè, predilige, diciamo, le femmine, perché la carne è più tenera e banalmente per le uova. Il problema che cos'è? Il problema è che non si sa il sesso del pulcino fino a quando non ha dalle tre, quattro, a volte anche cinque settimane di vita. E fino ad allora non restano altro che dei coccolosissimi batuffoli di pelo che però vanno alloggiati e nutriti. E questo implica un notevole dispendio di denaro, no? E nessuno aveva trovato una soluzione nel corso della storia, no? A questo problema. Fino a quando? Negli anni venti. Un gruppo di veterinari giapponesi non scopre nel di dietro del pulcino una serie di segni che di un occhio non allenato possono sembrare casuali, ma che se interpretati nel modo corretto possono dire il sesso del pulcino dopo un solo giorno di vita, signori! E la scoperta fu condivisa al Congresso Mondiale di Policoltura a Ottawa, Canada nel 1928 e finì per rivoluzionare per sempre l'industria delle incubatrici di tutto il mondo, ok? E quindi io da piccolina chiedevo a mio padre ma quindi tu, cioè, prendi il pulcino, lo studi così, gli guardi il culetto? E lui mi rispondeva velocissimo Yoko-chan, non c'è tempo per pensare e così guarda, femmina, femmina, maschio, femmina, maschio, femmina, maschio, femmina, maschio, femmina velocissimo! Questa è stata la risposta questa è stata la risposta che mio padre mi ha dato da piccolina e ho capito che cosa intendeva soltanto durante l'adolescenza quando ho scoperto questo libro che si intitola L'arte di ricordare tutto di Joshua Fuere in cui c'era un capitolo in cui l'autore diceva il sessaggio di polli, così da nulla il sessaggio di polli è un'arte raffinatissima che richiede la concentrazione di un maestro zen e la destrezza di un neurochirurgo il sessatore professionista riesce a sessare fino a 1700 pulcini l'ora con una precisione del 99,98% fatalità la stessa percentuale di cinesi che mi entrava allo Shanghai sai quando dicono la vita è un cerchio? eccolo là e la creme della creme, diceva il libro sono i diplomati della scuola giapponese zen nippon dagli standard così rigorosi che soltanto una percentuale compresa tra il 5 e il 10% poteva sperare di completare con successo gli studi ecco mio padre faceva parte di quella categoria e ho capito soltanto allora perché non mi ha mai raccontato di questa cosa perché io immagino che lui si porti dentro un trauma immaginatevi questa distesa di capannoni enorme pulcini ovunque il sensee, passa il sensee il maestro che dice più veloci, più veloci molto, 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 Suzuki-san più veloce Yamada-san più veloce e a un certo punto si alza Suzuki-san che dice sensee non sono degno e fa rakiri e il sangue schizza sui pulcini e schizza su mio padre ma lui continua femmina, femmina, maschio, femmina, maschio, maschio, femmina e lo diplomano ecco lui lui questa storia questa storia me la racconta così mi dice Yoko-chan io sognavo America ok? io sognavo America addirittura io ascoltavo Pink Floyd papà i Pink Floyd non sono americani Pink Floyd Yoko-chan allora io ero stufo di Giappone e sono andato in America stato a San Francisco per sei mesi poi scaduto visto sono tornato e poi ancora sognavo America e mio amico mi ha detto Yamada-san se vuoi tornare in America vai a Nagoya a fare scuora di pulcino e poi loro ti mandano in America perché c'hai bisogno allora io ho fatto questa scuora durissimo scuora papà è per questo che adesso non mangi più pollo ho fatto questa scuora e poi però alla fine mi hanno detto Yamada-san non c'è più posto per America tu puoi scegliere Germania Italia Spagna ma io non sapevo scelere per me è tutto uguale allora a un certo punto cosa ho fatto ho guardato mia pipa e c'era scritto Made in Italy allora scelto Italia ecco questo è stato il modo con cui i miei genitori sono conosciuti dagli anni 70 a Chiesa Nuova in provincia di Brescia ci sono innamorati ed eccomi qua grazie un applauso alle storie romantiche